Siamo giunti alla seconda edizione della rinascita della pineta d'Annunziana, un evento che abbiamo voluto fortemente realizzare all'inizio di quest'anno, nel mese di gennaio, nella sala d'annunzio dell'Aurum. Questo evento ha avuto tantissimo successo, sia una grandissima affluenza di pubblico che una grande partecipazione da parte degli artisti. Artisti quali pittori, scultori, poeti, scrittori hanno sentito molto da vicino questa problematica che è sorta dopo il nefasto incendio del 1 agosto del 2021 e si sono voluti riunire con l'intento non soltanto commemorativo, ma un intento di partecipare attivamente alla rinascita della pineta stessa, quindi coinvolgendo anche l'intervento dell'amministrazione comunale che è fondamentale per la realizzazione dell'evento stesso. Questo evento è stato organizzato dal professor Giorgio Del Bono, presidente dell'Associazione Laboratorio d'Arte di Pescara, noto ormai per i suoi eventi particolari, perché realizza degli eventi molto attrattivi per il pubblico.